test di registrazione video che sto effettuando con lo zuccage in una condizione di luce un po' particolare perchè è abbastanza nuvoloso comunque stiamo parlando di uno smartphone che possiede un sensore posteriore da 13 megapixel della samsung, più precisamente il modello S5K2M8 apertura f2.2 autofocus pdf più caf funzione auto hdr e singolo flash led proviamo un attimo la messa a fuoco devo tappare sul display perchè non mi va in automatico adesso proviamo a effettuare anche un pan veloce per vedere come si comporta e poi proviamo anche una situazione di controluce per vedere l'agattamento niente ragazzi per questo test di registrazione video in full hd è tutto un saluto da leonardo per gizchano.it